la nostra postazione Anche questo è un vecchio ritorno alle tradizioni quando c'erano proprio delle gare acrobatiche sul Canal Grande e in occasione delle grandi feste veneziane Allora, allora Zugno, se vuoi raccontare a chi ci sta ascoltando su Radio Venezia la nostra postazione quindi noi raccontiamo soprattutto quello che vediamo